guardia a voi sinistra tocca alla mano 1 destra 0 guardia a voi sinistra tocca al volto sinistra 2 destra 1 guardia a voi destra tocca al viso distra 2 destra 2 guardia a voi grazie 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 Grazie. Sinistra, punto al viso. Sinistra 4, destra 2. Guardia, poi. Sinistra, punto al viso. Grazie.